Caro Papa Francesco, ti scrivo dalla mia stanza all'ultimo piano, vicino al cielo, per dirti che in realtà ti stavo vicino all'esbo quando abbracciavi la carne martoriata di quelle donne, di quei bambini e di quegli uomini che nessuno vuole accogliere in Europa. Questo è il Vangelo che io amo e che voglio continuare a vivere accanto agli ultimi, quelli che tutti scartano. Questa passione è il vento dello spirito, che muove il mondo, lo vedo dalla mia piccola finestra, con le piante impazzite che si muovono a questo vento e i gabbiani che lo accompagnano. In questo tempo non posso più uscire, ma ti sto accanto in tutte le uscite che fai tu. Un pensiero fisso mi accompagna ancora oggi, spes contra spem. Caro Papa Francesco, sono più avanti di te negli anni, ma credo che anche tu ti trovi a vivere spes contra spem. Ti voglio bene davvero, tuo Marco. PS Ho preso in mano la croce che portava Monsignor Romero e non riesco a staccarmene. PS Ho preso in mano la croce che portava Monsignor Romero e non riesco a staccarmene.